cartella da ufficiale esercito cieco ex dotazione anni 80 apribile tramite metallico all'interno troviamo un'altra taschina con la chiave per chiudere esternamente altre taschine interne portapenne poi all'interno abbiamo la colla e una tripla divisione della cartella portadocumenti alla sua assormità troviamo una maniglia con due moschettoncini per far sì che possa essere agganciata anche addosso all'equipaggiamento e altresì può essere utilizzata la tracolla per agganciarla direttamente e usarla a modo di tracolla la tracolla in vera pelle regolabile tramite cinghie è realizzata in solito robustissimo sky oggi non più utilizzato ma all'epoca molto molto in voga